Intensificati i controlli dei carabinieri nel Terramano, nell'ultimo fine settimana, quello del carnevale estivo di Giulianova. L'attività di controllo, che ha coinvolto anche il personale sanitario a bordo di un laboratorio mobile, messo a disposizione dalla società Forensic Lab Service SRL, ha permesso di ritirare tre patenti di guida a conducenti, sorpresi alla guida sotto l'effetto dell'alcol, ai quali sono anche stati sequestrati i mezzi su cui circolavano. Due autovetture ed una motocicletta. Durante l'evento, sul territorio sono state dislocate 10 pattuglie, che hanno controllato oltre 100 veicoli ed un totale di 250 persone. I controlli non sono stati però concentrati solo nella lotta alla guida sotto l'effetto dell'alcol. I militari, infatti, hanno denunciato anche un giovane trovato in possesso di dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, oltre ad aver segnalato alla prefettura un ragazzo come detentore di sostanza stupefacente per uso personale. Non solo, i controlli hanno consentito ai carabinieri di rintracciare ed arrestare due italiani, un 63enne ed un 45enne, perché gravati da ordine di carcerazione, rispettivamente per violazione degli obblighi di assistenza familiare e reati contro il patrimonio. A Martinsicuro, invece, è stata arrestata una coppia residente all'interno del comune. I due avevano trasformato il loro appartamento in un punto di spaccio di cocaina ed eroina. Le indagini dei carabinieri, partiti nel settembre del 2023 a causa del frenetico andirivieni dei clienti, hanno portato gli investigatori dell'arma ad appostarsi per giorni in zona, fermando di volta in volta gli acquirenti che uscivano dal palazzo e di conseguenza a sequestrarne le dosi di eroine e cocaina appena acquistate. Sono stati ricostruiti così almeno una ventina di episodi di spaccio. L'uomo e la donna sono stati arrestati dai carabinieri nel pomeriggio del 20 luglio e condotti presso il carcere di Teramo.